Qualunque sia oggi la vostra opinione, anche io prima di tutto vorrei ringraziarvi per essere qui e con voi vorrei ringraziare chi tutto questo lo rende possibile oggi come in tanti altri momenti. Sono quelli che aprono i circoli, che montano i gazebo. Se gli va di lusso, ma davvero di lusso può capitare che un giornalista gli chieda perché lo fanno, ma questa non è una cosa che a loro interessi granché, rispondere al giornalista intendo. Però se solo li ascolti passerebbero ore a discutere con te di politica e del PD, magari criticando a volte furibondi per una scelta che non condividono e capita che abbiano ragione. Loro sono l'umanità che ci fa essere quello che siamo, un partito, non un'altra cosa ma un partito. Il Novecento li ha battezzati militanti e in fondo per la sinistra, per le forze popolari è stata una bella invenzione perché gli altri avevano le risorse finanziarie e di qua si è replicato con le persone. E comunque sia, se noi siamo qui, se tutto questo c'è, le primarie, i candidati, le emozioni, è perché esistono loro. E nessuno tra noi, ma davvero nessuno, può immaginare di cavarsela da solo, senza questa umanità.